Quando non si crede nella verità non sei tranquillo, non sei sicuro, assolutamente no. Quindi c'è un grande vantaggio tra coloro che credono nella verità e quelli che invece non ci credono. Quelli che credono nella verità, dentro di loro, nel loro stato d'animo, non c'è incertezza, non c'è indecisione. Magari uno è preoccupato perché devono venire determinate cose, va bene, questo lo era anche Gesù quando vedeva la sua vita, quando vedeva la sua sofferenza arrivare, la sua morte arrivare. Ora una certa oppressione, va bene, ci può stare, però una cosa è sapere quello che sta per arrivare per certo e quindi il Signore ti sta consolando comunque. Un'altra cosa è credere nella menzogna, cioè tu non sai che cosa sta per arrivare e cosa sta per succedere. Lo stato d'animo è devastato così e purtroppo quelli che si trovano nell'errore, io parlo dei credenti, è in mezzo alla Chiesa, i credenti che si trovano nell'errore, hanno creduto in qualcosa che non va bene, praticamente vivono una vita, una vita diciamo incerta, una vita piena di problemi, di dubbi, ogni cosa può essere quello, non può essere quello, non sanno cosa sta succedendo. Capite? Quindi bisogna fare attenzione, vedete come la conoscenza della verità, della parola, soprattutto della parola che ci aiuta anche a capire i momenti che stiamo vivendo, ci è di consolazione, ci fortifica, ci rende più forti, la conoscenza non ci fa smarrire, capite? Quando uno conosce la verità, in mezzo alle tenebre tu non ti smarrisci, rimani fermo, sai dove stai andando, capite? È importantissimo, tutti quegli insegnamenti falsi che i credenti si sono bevuti, quando viene il problema, una malattia, un altro problema, ti succede qualcosa, perdi il lavoro, cioè vai nel pallone, non sai come affrontarlo perché tu pensavi che Dio non ti mandasse mai queste situazioni negative e ti trovi in una situazione negativa, non la sai affrontare, questo è l'ignoranza, capite perché l'ignoranza fa perire? E' scritto, no? Che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, ma perché uno che non ha la verità, non ha la luce, il suo sentiero non è illuminato, sta camminando nelle tenebre e va a finire prima o poi nel burrone, va a finire nel baratro, e questa è importante, vedete cosa vuol dire crescere nella conoscenza? Non è solo una questione che io so di più di te, no, la conoscenza porta il suo beneficio interiormente, non solo porta beneficio che ti fortifica nella fede, ma porta beneficio che sei tranquillo, tu sai dove stai camminando, anche quando il mare è in tempesta, tu ti rendi conto a che punto sei, capite? E questa è la conoscenza, ed è su questo che dobbiamo basare una conoscenza di cose certe, a cominciare dalla parola, nell'esame anche di quello che ci sta succedendo attorno, dobbiamo sempre tenere conto della parola di Dio che è verità, no? Allora, il punto principale di cui oggi voglio che voi teniate bene a conto è questo, che non sta arrivando il ritorno di Cristo, ancora non sta arrivando, non si vedono i presupposti dell'anticristo, non viene costruito il Tempio, dopo prendiamo i passi della scrittura, non sta succedendo nulla di tutto questo, è un tempo difficile, un semplice tempo in cui Dio sta punendo gli empi, mettendo alla prova i credenti, con questa pestilenza, che poi sia una pestilenza come già qualcun altro ha detto, sia una pestilenza mandata da Dio, il virus mandato direttamente da Dio, dalle sue mani, o passato attraverso il laboratorio umano, è sempre un virus che Dio ha voluto che ci fosse, cioè non è che questo virus è sfuggito e Dio non lo controlla, capite? Il virus fa parte sempre dell'esercito di Dio e colpisce quelli che Dio vuole che vengano colpiti, chi per provarlo e chi anche per portarlo all'altro mondo, chi per punirlo e certo anche la punizione, ci sono tutti questi elementi che bisogna considerare, ma tu lo devi sapere perché così sei tranquillo, perché non ti deve prendere il virus, ma se ti prende devi esaminare perché, il Signore mi vuole insegnare qualcosa, il Signore mi mette di più alla prova o il Signore mi sta punendo o il Signore mi vuole chiamare a sé con questo virus che può essere, oggi parliamo di virus, ma può essere qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra pestilenza e giustamente è stato fatto notare, ma badate bene che questi virus ci sono sempre stati, vi faccio sapere questo, la peste quella del 1300 che si ha fatto che faceva quello sì che faceva dei morti tremendi, quel tipo di peste ancora non è scomparsa, i topi riescono ancora a trasmetterla qualche volta a qualche persona, quindi abbiamo nel mondo ogni tanto, in qualche parte del mondo, qualche caso di quella peste, magari a contatto con i topi, in qualche maniera viene trasmesso questo, non so se fosse un batterio o un virus, questo non ve lo so dire, ma comunque quell'elemento che porta, quel germe, quella cosa che porta a questa pestilenza c'è sempre stata e il Dio ci ha sempre guardati, ci ha sempre guardati, tu che ne sai del cibo che stai mangiando, che viene dalla Cina o che viene a chissà da dove, se non era pieno di topi che hanno la peste dentro di loro, ma il Signore ti ha preservato, perché queste, così stanno le cose, non è che sono in altro modo, tu quando andavi in macchina, quando andavi in moto, io sono sicuro che a me mi è successo diverse cose in macchina, in moto, in bicicletta, mi sono successi diversi incidenti, anche quando ero incredulo, che se io adesso, che il Signore mi ha salvato, mi ha aperto gli occhi, adesso capisco perché non mi sono fatto male, perché tutto è andato in una maniera impressionante e che non è successo nulla, ve ne racconto qualcuna, da non credente, anche da credente, allora quando eravamo in un Vespone, all'epoca negli anni Ottanta c'era la Vespa e il Vespone, il Vespone era proprio una moto più potente, oggi come li chiamano, comunque i motorini di adesso, quelli che sono un po' più grandi, ecco all'epoca c'era la Vespa e il Vespone, il Vespone era un 200, 200 di cilindrata e il Vespone era 50, quindi per farvi capire la grandezza, con quello di 200 correvamo, guidava un mio compagno di scuola, 15-16 anni, correvamo spediti su una strada sterrata, cosa succede? Ma correvamo veloci, è scoppiata la ruota di dietro, la ruota posteriore è scoppiata, si è aperta, quel Vespone lì sbatteva, cioè il controllo, umanamente non era possibile tenere il controllo di quel Vespone, cioè saremmo dovuti cadere rovinosamente su quella terra, su quella strada sterrata, ecco tutto quello che conseguiva, eppure non siamo caduti, abbiamo fatto non so, 100-150 metri, 200 metri, sballottati a destra-sinistra in maniera impressionante, non siamo caduti, poi si è fermata la moto, siamo scesi, morti di paura, le ginocchia tremavano, la paura veramente è stata tanta, siamo rimasti coriccati per terra, mi ricordo non so quanto tempo, io e l'altro senza parlare perché la paura ci aveva distrutto, è un caso, un'altra volta ero io col Vespino, guidavo io, prendo il mio fratellino piccolo e lo porto a fare un giro e per farlo un po' emozionare così prendo una strada sterrata, una strada secondaria, entro dentro un terreno e in quel terreno che era sempre aperta, l'apertura lì era sempre aperta, invece in quella volta lì cosa era successo? E' successo che c'era una rete, quelle rete che chiudevano l'entrata, stavo dicendo poi sono entrato dentro con questo Vespino, con mio fratello dietro, da quella rete lì sono entrato dentro e ha fatto un po' come da elastico, sono entrato dentro col Vespino e poi ci ha rimbalzato 10-15 metri all'indietro, ebbene io vi dico che non siamo caduti, siamo atterrati sempre dritti con la moto, io non so come è stato possibile non cadere, non lo non siamo caduti, questo vi dico perché ne potrei raccontare anche altri, un'altra volta da credente, andavo da Torino a Genova a 120 all'ora con la macchina in autostrada, erano le 4-5 del mattino, insomma non avevo dormito tutta la notte, stavo tornando a Genova e mi sono addormentato in autostrada, in macchina, e mentre uscivo fuoristrada a una curva sono andato dritto praticamente, stavo andando dritto e ho sentito la mia spalla sinistra, un colpo forte sulla spalla sinistra che mi ha sballottato e mi ha svegliato, come quando uno ti dà un colpo forte sulla spalla con la mano, ti dà un colpo forte e tu ti muovi tutta la spalla e ti sveglia e ho visto che stavo uscendo fuori di strada, ho ottenuto il controllo della macchina con grande difficoltà, ma alla fine ho ottenuto il controllo e non è successo nulla e anche lì che ero già credente è successo che ho ringraziato Dio perché mi ha preservato da ogni male. Solo alcune cose, ma questo per dirvi, badate che i pericoli contro la nostra vita, noi li passiamo tutti i giorni, sappiatelo questo, non è questa questione del virus, è che adesso ne hanno parlato tanto, ma i virus mortali anche ci sono sempre stati, le polmoniti possono essere mortali anche se non provenienti dal virus, io purtroppo siamo andati a finire all'ospedale, ho dovuto portare mia figlia piccola che anni fa, 4-5 anni fa ha avuto la polmonite, rischiava, se non guariva rischiava di morire, l'ho dovuta portare all'ospedale e è stata curata, così, quindi vedete le polmoniti, malattie bronchiali, tanti tipi di altre pestilenze, sono all'ordine del giorno malattie, batteri, cose che noi non vediamo, noi non le vediamo questi pericoli e neanche possiamo impegnarci in tutti i modi, ogni giorno dobbiamo riconoscere il pericolo, vederlo e scampare da esso, proteggerci da soli, no, noi non dobbiamo cercare il pericolo, nel senso che non ci dobbiamo buttare dentro i pericoli, però non dobbiamo neanche temere i pericoli, perché c'è il Signore che ci protegge, è lui che ci guarda da ogni male, ci guarda non solo da questa pestilenza che c'è adesso, ma ci ha sempre guardati dalle pestilenze, dagli incidenti, da qualsiasi cosa, ma perché dai veleni che ci sono nei cibi, chi è che ci guarda? Chi è che ci sta proteggendo? Ma secondo voi avete mangiato sempre roba buona? Ma dai supermercati? O roba scaduta, o roba che ci hanno messo dei veleni, o roba immonda, impura, in tutti i modi, ma secondo voi avete sempre mangiato roba buona? Io sono sicuro che un giorno quando il Signore ce lo farà sapere, noi verremo a sapere, abbiamo mangiato tanti di quei veleni, anche mortali, e il Signore ci ha scampato, perché ce l'ha promesso, come dice Marco 16, e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male, e questa è la promessa di Dio. Ma cosa volete che ci metteva un versetto per ogni cosa? Allora seppur ci fosse un virus che girava non ne avranno alcun male, se ci fossero batteri che girano non ne avranno alcun male, se ci fossero incidenti non ne avrebbero alcun male. Volete che il Signore ci scriveva una riga per ogni elemento? E così avrebbe dovuto scrivere enciclopedie, enciclopedie, solo per dirci da tutto quello che ci scamperebbe. Allora ci sono scritte alcune cose, ebbene, quelle valgono per tutto. quante cose avremmo mangiato che non erano velenosi, ho bevuto anche l'acqua, quante volte abbiamo bevuto, non avete mai bevuto voi dalle fontane, dai fiumi anche, quando hai bevuto, abbiamo bevuto, e quindi ci ha scampato da ogni male. Il Signore ci ha scampato già da tanti mali. Perché dovrebbe adesso lasciarci in balia di questo virus? Va bene? Quindi questo discorso, per farvi capire, è che non bisogna temere. Una cosa è essere prudenti, comportarsi in maniera corretta anche con gli altri, quindi se uscirà la normativa di usare le mascherine, voi usate le mascherine quando uscite fuori di casa. Non è una mancanza di fede, è soltanto proteggersi dalla follia delle persone, perché adesso, non so se state seguendo, ma sta scoppiando la follia della gente. Se sei senza mascherina, ti prendono come uno che sta spargendo la malattia e ti si scagliano contro. Qualcosa te la dicono, qualcosa te la dicono. Poi ci sono quelli che reagiscono male, come ho visto anche oggi, qualcuno reagisce male. Comunque è la follia. Adesso è il tempo della follia. Che cosa produce follia? La follia produce l'incertezza del futuro e la paura. Capite? La paura produce un comportamento folle. E questo purtroppo non c'è limite. Ha il comportamento folle della gente. Non c'è un limite e quindi bisogna stare attenti. Bisogna attrezzarsi. Se adesso uscirà la normativa, già adesso io lo consiglio. Per protezione propria, ma non dal virus, perché la mascherina non ti protegge dal virus. Il virus entra e va dappertutto. Ma gli altri li fa stare tranquilli. Agli altri fa stare tranquilli. cioè tu sei tranquillo che gli altri non ti guardano male. E gli altri sono tranquilli perché ti vedono con la mascherina. Ma scusa un po', ma se Paolo ha detto che se mangiare carne scandalizzava il debole, non avrebbe mangiato carne. Ma qui invece cos'è? Se non usare la mascherina può creare turbamento, paura, agitazione, nervosismo negli altri, nel nostro prossimo, per quale motivo io non dovrei usare la mascherina? Capite? Quindi bisogna muoversi anche pensando al prossimo. Noi stessi non abbiamo paura del virus, anzi sappiamo perché esaminiamo le cose come realmente sono. Cioè le mascherine non proteggono dal virus, però fanno sentire tranquilli. Va bene? Fanno sentire tranquilli. Ora perché togliere questa tranquillità? Cioè che cosa dimostri tu uscendo fuori senza mascherina? Che ti guardano. Adesso se... Prima guardavamo quelli che hanno la mascherina, no? Uno usava la mascherina e gli altri non la usavano. Adesso è il contrario. Ti guardano se tu non usi la mascherina. Ti prendono e ti additano. Ti dicono quello lì è uno di quelli che... Ecco perché il virus non è ancora andato via. Perché gente come lui sta spargendo il virus. Capite? Così. Non ditemi che c'è una logica perché non ve lo posso spiegare la logica di questi. La follia è questo. Ma questo ci deve far insegnare, ci deve insegnare a comportarci in un certo modo perché magari in futuro ci potrebbero essere maggiori cose più gravi anche. Capite? Quindi noi dobbiamo adattarci a non farci, a non esporci a situazioni gravi. Non al virus ma a situazioni gravi, a non farci parlare contro. Perché la gente viene, ti dà un ceffone che tu non c'hai la mascherina e che fai? Gliela restituisci? E te lo sei meritato pure alla fine. Capisci? Perché poi te lo meriti anche perché tu non hai portato rispetto alla loro paura. Attenzione! Alla paura del debole. Quindi è conveniente comportarsi in un certo modo. Questo è per quanto riguarda il virus. Cosa stanno dichiarando? Cosa hanno dichiarato oggi? Che oggi c'è stato un calo. Quindi siamo in una fase in cui il virus, la sua diffusione sta calando. In Lombardia sono già obbligatorie, sì. Adesso vedrete che in qualche modo qualcun altro si può svegliare e dire no, le usiamo anche in tutta Italia, no, le usiamo in alcune regioni. Comunque, se cominciano a usarle lì, il ragionamento anche degli altri regioni qual è? E' che la mascherina è utile a non diffondere il virus. Quindi a te, anche se non sei in Lombardia, e ti vedono senza mascherina quando vai al supermercato, c'è quello di uscire fuori proprio a fare una passeggiata, quello non ne parliamo proprio perché lì è capace che ti sparano dalla finestra. Ma se tu vai al supermercato senza mascherina, sì, tiene le distanze, tutto, ma è così, è presa dalla paura. Quando uno è nel panico, non c'è un ragionamento logico che tu gli puoi fare per farlo capire. È nel panico, putto, il discorso è chiuso, non recepisce nulla. Allora tu, che non sei nel panico, ti devi adeguare. Capito? Ma non al suo panico e alla sua paura, però farlo sentire il più tranquillo possibile. Se una mascherina fa sentire tranquilli tutto il supermercato, anche gli stessi quelli che ti vendono la roba, facciamole, è cosa buona farla perché così stanno tranquilli. No, noi non vogliamo irritare, innervosire nessuno in nessuna maniera. Poi se ci dicono, ma a te hai paura del virus? No, veramente lo sto usando per gli altri, non per me. Se gli altri sono più tranquilli così, noi lo usiamo. Ma tutto qua, poi sappiamo bene, lo dicono gli scienziati stessi, che le mascherine non servono a proteggersi dal virus. Ci sono quelle... Oggi ho visto un video di uno che diceva, guardate che certe mascherine proteggono gli altri, ma tu lo puoi prendere. Altre mascherine dice, se tu ce l'hai, spari il virus agli altri e tu non lo prendi. Tu non lo prendi, però tu lo dai agli altri se ce l'hai, se sei un portatore sano. Quindi alla fine con queste mascherine, come la fai, la fai, per il virus non serve. Allora è solo un aspetto psicologico, è solo un aspetto adesso psicologico nei confronti di chi ti guarda e ti vede fuori. Quindi per stare tranquillo tu, per stare tranquilli anche gli altri, esci in una maniera tranquilla. Faccio un esempio però, attenzione, voi dovete capire bene quello che sto dicendo perché non vorrei essere frainteso. Perché? Perché se in Calabria, facciamo un esempio, prendiamo la Calabria, dove va a fare la spesa la sorella Caterina. Se lì tutti sono senza mascherina, tutti senza mascherina, ma stai tranquillo non la metti neanche tu, perché lì in quel caso tu con la mascherina porteresti agitazione e paura agli altri. Capito? Dicono ma questo è con la mascherina, cosa sta facendo? Allora in quel caso è il contrario, perché noi stiamo parlando dell'aspetto psicologico, quello che scatta nella testa della gente. Se uno ha la mascherina, se nessuno la usa nel paese, ti vedono a te con la mascherina, dicono che tu sei malato, allora perché esci? C'è tutto il ragionamento al contrario. Se invece sei a Milano e usano tutti la mascherina e tu sei l'unico senza mascherina, allora lì ti prendono a te che stai diffondendo il virus, capite? Quindi bisogna muoversi con intelligenza in Campania, in Sicilia. Se vai in un supermercato dove non ce l'ha nessuno la mascherina, perché ancora non è obbligatoria in effetti, se non ce l'ha nessuna e tu la usi, tu crei disagio agli altri. E purtroppo è così. Allora non la metti. In quel caso vale il discorso che tu devi stare, ti devi disperdere con la massa, capite? Perché la diversità crea psicosi, crea panico, crea agitazione. In questo caso non stiamo rinunciando a qualcosa di cristiano o di biblico, quindi non stiamo offendendo il Signore facendo in un modo o facendo in un altro. Ma noi ci comportiamo in modo da venire incontro ai deboli, capite? Veniamo incontro ai deboli. E questi deboli possono essere anche i non credenti, perché ci sono non credenti che sono coraggiosi, non gliene importa nulla del virus. Però ci sono anche molti non credenti che hanno paura, molta paura, sono quasi al limite del panico, c'è dell'esplosione, capite? Della follia. Dopo il panico c'è la follia, c'è un comportamento sconsiderato che non ha nessuna logica, che è un comportamento quando si è nel panico, c'è uno stato d'animo che tu fai delle cose che normalmente non faresti, capite? Quindi non si può ragionare con uno che è al panico, che ha paura. Qui bisogna riconoscere anche queste persone, non si possono fare discorsi per farli impanicare di più, per farli irritare. Eh vabbè ma tanto le mascherine non servono, tanto muori lo stesso se devi morire, no? Cioè se gli fai questi discorsi quello scatta la follia, capite? Quindi bisogna stare attenti a tutto quello che si dice, a tutto quello che si fa. Tutto questo ci deve insegnare anche a comportarci, a considerare meglio anche la situazione dei più deboli, di quelli che sono deboli, capite? Adesso vi ho detto che insomma sta calando, quindi in Italia abbiamo una situazione che il virus sta diventando meno aggressivo, cioè sta calando il picco della diffusione del virus, quindi i morti stanno calando. Non è che sta calando di numeri molto grandi, però a noi ci dà il segnale che sta calando. Ecco, per quanto riguarda diciamo le conseguenze, le conseguenze, perché alcuni dicono cosa succede, cosa può succedere in questo stato di cose? Che può venire un vaccino e ce lo metteranno a tutti e dentro il vaccino ci saranno anche i microchip, ma sono tutte cose, ci sono anche altre voci che dicono che il virus, che il vaccino verrà tra un anno, un anno e mezzo, poi bisogna produrlo, ne devono fare miliardi e miliardi perché tutto il mondo è interessato. Quindi allo stato attuale per il vaccino non c'è da preoccuparsi, va bene? Non vi preoccupate, state tranquilli, io non lo voglio prendere il vaccino, se poi ci saranno leggi che lo impongono ci penseremo, va bene? Adesso abbiamo questo problema, preghiamo il Signore, per adesso abbiamo ancora un po' di tempo e dobbiamo pregare il Signore, ma non dobbiamo far sciarci la testa prima di rompercela, quando verrà il momento, quando verrà il momento per quanto riguarda i vaccini, ci penseremo, va bene? Tutti insieme, tanto siamo qui, non è che stiamo scappando, anzi siamo tutti a casa, quindi siamo tutti collegabili in qualsiasi momento. Quando verrà il problema di preoccuparsi dei vaccini, penseremo anche a quello, vediamo un po' che cosa imporranno e quello che succederà, ma se ancora non c'è una legge, non c'è una disposizione, non c'è un ragionamento sicuro, adesso ci sono solo voci, chiacchiere che ci sono sempre state. Ah, vogliamo vaccinare tutti con gli altri vaccini che sono obbligatori per i bambini, no? Vogliamo vaccinare tutti, vogliamo vaccinare a un certo numero di persone, questi ragionamenti ci sono sempre stati, ma finché non diventano un pericolo reale ed effettivo, è inutile che io mi fascio la testa perché ancora non c'è questo pericolo, non c'è, ve lo ripeto ancora, non c'è quel pericolo vaccino, pericolo microchip, non c'è, non è il segno della bestia, come anche vi è stato detto, ma noi non lo vogliamo lo stesso microchip, è chiaro questo, non c'è problemi per i microchip, ancora non c'è. Quando ci sarà un reale pericolo, è un motivo valido per poter pensare, riflettere, discutere e cercare una soluzione, la cercheremo, ma adesso cercheremo una soluzione a un problema che non c'è, non c'è un problema di vaccino, non c'è un problema di microchip, si pensa, vogliono fare, elaborano, ma questo lo dicono da tanti anni, non è un problema che sorge adesso, questo di vaccinare più gente possibile, indebolirla, farla ammalare, ucciderla, è una cosa che c'è sempre stata, c'è tanti decenni già che cercano di muoversi in questa maniera, quindi non sta cambiando nulla, dal punto di vista vaccinale non sta succedendo nulla di nuovo, va bene? Dal punto di vista del microchip non è, non sta arrivando niente. Per quanto riguarda la bestia, ancora non si vede, non ci sono segni, ecco e qui io volevo intervenire leggendo con voi qualche passaggio biblico, perché? Perché? Perché magari ci sono quelli che credono che noi, i credenti, passano attraverso la tribolazione, saranno momenti difficili, perché? Perché? Quelli del mondo saranno colpiti dai giudizi di Dio, gli empi e i peccatori, va bene? I ribelli. La Chiesa non sarà colpita da quelle devastazioni, no, non sarà colpita, però il Dio ha stabilito che chi governerà in quel periodo, in quel momento, cioè l'anticristo, metterà, perseguiterà e metterà a morte molti, non tutti, ma molti della Chiesa saranno perseguitati e messi a morte. E questo lo dobbiamo dire perché è così. Però, guardando quello che sta succedendo, ci stiamo avvicinando? Questa è la domanda, la domanda è questa. Allora, per esaminare quello, noi leggiamo, che è stato anche già pubblicato, il passo di seconda tessalonicesi. Leggiamo il capitolo 2 di seconda tessalonicesi e ne parliamo e vediamo se, analizzando le cose che stanno succedendo, se possiamo dire che l'anticristo sta arrivando e alle porte, oppure se il Signore sta arrivando. Seconda tessalonicesi, capitolo 2, 2-1 Or, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra. Quasiché il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia avvenuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora voi sapete quel che lo ritiene, onde Egli sia manifestato a suo tempo, poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto che v'è chi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signor Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quel lempio avrà luogo per l'azione efficace di Satana. Con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore onde credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto la verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Per ora basta così. Capitolo 2. Guardate cosa dice Paolo. Cosa era successo? Quello che stiamo vivendo noi, o meglio quello che stanno vivendo alcuni credenti, vabbè anche noi perché indirettamente anche noi, ogni volta che c'è un evento catastrofico funziona così, che c'è una parte della Chiesa, perché i non credenti, lasciamo lì un attimo stare, ma una parte della Chiesa cosa fa? Dice che sta per tornare il Signore. Perché? Perché in qualche maniera c'è qualcuno che vuole sfruttare la paura dei Santi per piegarli alla sua volontà. Capite? Quando una persona ha paura si aggrapperebbe a tutto, crederebbe a tutto. Basta che gli dai un messaggio che più o meno può essergli utile, va bene? E allora sfruttano questo momento di stato d'animo dei fratelli. Cos'era successo? Anche a Tessalonica, anche ai tempi di Paolo, era successa una cosa simile. A Tessalonica stavano dicendo che l'avvenuta del Signore era imminente. Cioè, cosa vuol dire imminente? Vuol dire che è proprio alle porte. Cioè, che sta a venire veramente da un momento all'altro. Questo vuol dire. I Tessalonicesi si trovavano in questa situazione. Cioè, c'era lì, c'era una parte della Chiesa, perché sicuramente non erano tutti. Infatti, dal parlare di Paolo, quando al versetto 2,5 dice, non vi ricordate che quando ero ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? Quindi quello che Paolo disse per iscritto in quell'Epistola, già l'aveva insegnata a voce. Quindi i Tessalonicesi, quella Chiesa, aveva già saputo come stavano le cose. Solamente che cosa era successo? Una parte della Chiesa, come ancora oggi purtroppo ci sono quelli che si fanno prendere, una parte della Chiesa credeva che il ritorno del Signore era imminente. Era imminente. Quindi cosa è successo? È successo che Paolo, sicuramente hanno avvisato Paolo, gli hanno detto la parte della Chiesa che magari credeva nella verità, quegli insegnamenti che avevano sentito a voce dall'Apostolo Paolo, che li avevano capiti, magari hanno comunicato con Paolo, dicendo Paolo, guarda che fratello Paolo, guarda che qui si è creata questa situazione. E quindi cosa ha dovuto fare l'Apostolo Paolo? Ha dovuto scrivere l'Epistola, la seconda Epistola ai Tessalonicesi per mettere ordine, per mettere ordine a quel disordine che si era creato da certe persone ignoranti che avevano cercato di turbare la Chiesa di Tessalonica. Quindi Paolo è dovuto intervenire. Come stiamo cercando di fare? Come ognuno di voi deve fare in mezzo a quei credenti, anche se non sono dei nostri, li dobbiamo tranquillizzare, dobbiamo trasmettergli e dire, fratelli, i segni non ci sono ancora né della venuta dell'Anticristo e né soprattutto della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Perché i punti, guardate bene, sono i punti. Io ho citato questi che sono quelli più visibili anche ad occhio nudo, no? Lo dovremo vedere tutti quando queste cose avverranno. I segni sono l'Apostasia, cioè molti della Chiesa si daranno a seguire qualcuno che non è l'Iddio, l'Iddio del Cielo, non è Gesù Cristo, quindi ci sarà una grande apostasia. Ecco, un altro segno che ci sarà sarà la venuta dell'Empio dell'Anticristo. Cosa farà quest'Anticristo? Quest'Anticristo dirà che lui è Dio, no? Per questo magari molti si metteranno a seguirlo. Chi non lo seguirà magari sarà messo a morte nella Chiesa. Purtroppo abbiamo questo pericolo, sì, il pericolo di essere messi a morte. Però riconosceremo quando avverrà, riconosceremo i tempi se ci tocca a noi. Se non ci tocca a noi lasciamo detto ad altri in maniera che si trasmetta, come poi ha fatto Paolo, in maniera che riconoscano loro quando sarà il tempo. Quindi verrà quest'uomo, perché è un uomo, badate bene, è un uomo, non so chi sia, non so se sarà giudeo o no, perché le discussioni sono tante. Io non so se sarà giudeo o no, sarà un uomo, questo lo so. Dirà che gli è Dio e si siederà nel Tempio. In quale Tempio? Qual è il Tempio di cui può mai parlare la scrittura? Il Tempio di Gerusalemme, no? Il Tempio per eccellenza è quello, almeno su questa terra. E lui dirà che Dio si siederà nel Tempio. Vedete, il fatto che si siede nel Tempio, come è stato detto, già detto, dimostra che è una cosa, cioè che è un Tempio dove ci si siede, quindi è un Tempio come quello che è stato distrutto nel 70 dopo Cristo e come quello che aveva costruito Salomone. è un Tempio fatto di mattoni, di tutti quei materiali col quale si costruisce un Tempio. Quindi sarà un vero e proprio Tempio fatto da mani d'uomo. E in quel Tempio si siederà quest'Anticristo che dirà che egli è Dio. Va bene? Ecco, questi dobbiamo puntualizzare, dobbiamo concentrarci sulle cose certe, su quello che i nostri occhi riusciranno a vedere più facilmente possibile. Per quanto riguarda le pestilenze, carestie e guerre, questo me lo dovete riconoscere, ci sono sempre stati più o meno devastanti. Quello che c'è adesso non è neanche così devastante come i precedenti. Quindi come fa? In precedenza ci sono state pestilenze, carestie, terremoti e ci saranno ancora. Ma ci saranno ancora pestilenze, carestie, terremoti e guerre. Va bene? Ci saranno guerre vicine, guerre lontane. Ma queste cose qui il Signore ci ha detto che ci saranno, ci devono essere, ma non sono l'elemento che ci fa pensare o capire che sta per arrivare l'Anticristo o il Signore. Non sono questi gli elementi. Questi elementi il Signore ha detto che ci sarebbero stati e ci saranno. Forse saranno più devastanti quando si avvicinerà il momento della venuta dell'Anticristo o della venuta del Signore. Può darsi, però intanto questi non sono così devastanti. Cioè questo lo riusciamo a capire, che questa pestilenza non è così devastante da dire che chissà che pestilenza è. Sta facendo un po' di morti come negli anni precedenti ci sono stati per le influenze. Questo è un po' più aggressiva, è scattato l'allarma, è più un movimento dell'uomo e più la paura dell'uomo che l'aggressività vera e propria di questo virus. Quindi non possiamo prendere i virus o terremoti come elemento per dire che il Signore sta per tornare o che sta per venire l'Anticristo. Perché dico queste due cose? Perché noi credenti che crediamo che il rapimento segreto non esiste, dice aspettiamo l'avvenuta dell'Anticristo prima della venuta del Signore. Mentre quelli che credono nel rapimento segreto hanno una falsa speranza perché pensano di essere rapiti prima che venga l'Anticristo. E quindi vedete come l'ignoranza e la falsa speranza ti fa vivere male il tempo in cui tu vivi. Perché? Se cominciano a venire più pestilenze, più calestie, cominciano a sentirsi in pericolo e pensano, ma come? Il Signore tarda a venire? Ma come? Il Signore non mi rapisce? Non rapisce il Signore? Ci lascia in mezzo a queste prove, a queste distruzioni? Capite? Perché la falsità non ti protegge dalla realtà dei fatti, capite? La realtà dei fatti che accadono? Accadono, non importa quello che tu credi, accadono perché devono accadere così. Se tu sei pronto puoi anche reagire nella maniera corretta. Se tu non sei pronto alla realtà dei fatti, reagisci male, non sai come reagire. È per questo che quei fratelli che sono nell'ignoranza possono perire, perché hanno una falsa speranza, perché sono nell'ignoranza e non sanno, non controllano i propri sentimenti in base a quello che dice la scrittura. Si può creare un astio anche verso la verità e verso il Signore, ma come? Ha promesso di venire e ancora non viene e magari ci sono state pestilenze terribili, carestie, guerre tremende. Perché è una falsa dottrina? Ecco perché non ti protegge dal male e neanche nell'animo. Non ti protegge nell'animo, perché è una falsa speranza. Quindi ti lascia nella paura. La falsità ti lascia nella paura. Ora esaminiamo i detti punti in cui bisogna tenere da conto. Tenete da conto questi punti che ha detto l'Apostolo Paolo. Li ha scritti in maniera semplice per farci rendere conto anche a loro prima e a noi dopo, state tranquilli, le cose stanno così, avverranno così e non sarà in altro modo. Questo è quello che è più vicino a noi, più comprensibile. Se andiamo a leggere i profeti, se andiamo a leggere l'Apocalisse, non è così semplice e comprensibile. Bisogna mettere insieme i pezzi che non è così semplice. Quindi se voi leggete i profeti, leggete l'Apocalisse, non trovate le cose esposte in maniera, ma anche i passi nei Vangeli dove ne parla Gesù. Non è poi così tutto spiegato che ci può far capire determinate cose. Quindi ci dobbiamo attenere strettamente a questo che ha scritto Paolo, che questo ci rincuore, ci fa capire bene il tempo in cui saremo vicini a quello che è. Quindi fino a quel tempo, fino a che non vedremo queste cose avverarsi, noi possiamo stare tranquilli. Non sta avvenendo l'anticristo, non c'è, io non lo so se è già nato, se fra un anno invece tutto cambierà. Io questo non lo posso sapere, ma allo stato attuale non è così, capite? Il Tempio ancora non è costruito. quello è un oggetto, è un elemento oggettivo che possiamo vedere con gli occhi. Non c'è il Tempio. Quindi state tranquilli, tranquillizzate tutti quelli con cui parlate. Non è così, non sta avvenendo nessuno, non sta succedendo nessuno. Sta accadendo solamente quello che ha detto Gesù, ha preannunciato che ci sarebbero stati. Pestilenze, carestie, terremoti, guerre. Ma se voi guardate da quando Gesù le ha dette queste cose, ci sono state moltissime pestilenze, moltissime guerre, moltissime carestie, moltissimi terremoti. Quindi non è che al prossimo terremoto viene la fine. A ogni terremoto dobbiamo gridare la fine. No. Bisogna esaminare, attenerci alle scritture. Le scritture ci liberano da ogni agitazione anche interiore, da ogni falsa aspettazione, da tutto ciò che non è vero. Quindi ci fa stare tranquilli. Attenzione però, questo non è che vi sto dicendo questo. Voi continuate a peccare. Non voglio dire che va bene, continuate a peccare e il Signore non sta per tornare. No. Perché? Perché vero è che il Signore non sta per tornare, ma il nostro momento di dipartirci da questo corpo è sempre pronto. Non è che c'è un tempo, diciamo, che noi sappiamo. Il Signore lo sa, ma noi no. Cioè, non è che noi possiamo pensare che non moriremo domani, dopodomani o fra un mese. Noi dobbiamo essere sempre pronti. Questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo. dobbiamo vivere tranquilli senza paura. Però dobbiamo essere pronti. Pronti a tutto, eh? Guardate bene. Eh? Questo. Quindi, eh? Chi deve abbandonare il peccato lo abbandoni. Chi deve santificarsi di più si santifichi. Chi deve studiare le scritture le studi. Adesso ce l'hai il tempo. Ce n'hai più di tempo. Devi tenere un comportamento. Adesso, apriamo una parentesi, il comportamento che devi tenere in questo periodo in cui non stai uscendo per lavorare. Tu non è che sei libero di alzarti a mezzogiorno. Tu non è che sei libero di alzarti all'una, alle due, fai quello che vuoi. Tu devi tenere un comportamento, diciamo, come piace al Signore. Quindi bisogna alzarsi alle ore stabilite, pregare, cantare al Signore, studiare le scritture, dedicarti al Signore. Non è che puoi fare, vabbè, adesso dedico tutto il tempo che ho e mi sistemo il garage, mi pitturo casa. Cose che sicuramente devi fare. Non è che non le devi fare. Però fai attenzione. Non è che ti dedichi a fare tutto quello che è possibile fare e non ti dedichi alla preghiera, allo studio della parola. Perché abbiamo sempre detto, no? Se hai il tempo, studia, dedica del tempo per studiare e per pregare, va bene? E molti si giustificavano dicendo, vabbè, ma io lavoro, ho poco tempo, torno tardi la sera. Vabbè, adesso non stai tornando tardi la sera, adesso sei sempre a casa, non hai problemi. Quindi, quanto stai pregando al giorno e quanto stai leggendo le scritture? Da un punto di domanda. Ma non mi rispondere a me, perché non sono io quello che è. Devi rispondere a te stesso. Quindi non cercare scuse, non cercate scuse, giustificazioni, no? Quando torneremo a lavorare, piacendo a Dio, che lavoreremo otto ore, dieci ore al giorno. Ah, non ho tempo di pregare, non ho tempo di studiare le scritture. Ma quando avevi tempo, l'hai fatto? Perché se quando avevi tempo l'hai fatto e poi vai a lavorare e non lo fai, ancora ancora sei coerente. Ma se non lo fai quando c'hai tempo, non puoi dire quando il tempo non ce l'hai. Ah, se avessi avuto tempo avrei pregato di più, avrei letto di più, capite? Poi diventi ipocrita. Ma stai cercando di ingannare il Signore, stai mentendo allo Spirito Santo, stai attento, stai attento. A chi vuoi mentire? A noi uomini, ma stai attento perché il Signore ti vede, quindi occhio, attenzione a quello che si dice e a quello che si fa, che il Signore osserva. Ora, veniamo quindi ai punti, questi sono i punti che ha citato Paolo e a questi ci dobbiamo attenere. Esaminiamo bene cosa ha detto Paolo. Dice così, or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Voglio che notiate che comincia dicendo, parlando della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Lo vedete? Ah, vi ho sorto naturalmente aprire la Bibbia di carta e guardare quel versetto perché vi deve rimanere impresso lì, sul punto in cui c'è nelle sacre scritture di carta, perché è lì. Lasciate stare l'informatica, quando è possibile usate le sacre scritture di carta. Quando scapperemo dall'anticristo non dovremo averlo il cellulare, non dovremo avere il computer, perché saremo intercettati. Quindi se tu hai sempre letto dal computer, come poi potrai leggere dalla carta? Capite? Ti può aiutare il computer e il cellulare, ma non può sostituire la Bibbia di carta. Va bene? Chiaro questo concetto? Cioè non devi essere di quelli che dicono che ci stanno microchip, cioè gridi sempre a microchip, ma non studi nella Bibbia su carta, ti stai contraddicendo, perché tu sai che il cellulare è intercettato, i microchip ci vogliono infilare per intercettarci, siamo intercettati in tutti i modi, non te li puoi prendere, quando scappi non te li puoi prendere quegli oggetti informatici. Quindi almeno la Bibbia te la devi portare, io almeno la Bibbia me la voglio portare, è l'unica cosa che mi consolerà, capite? Quindi attenzione, usate la Bibbia su carta. E sulla Bibbia su carta, leggendo al capitolo 2, versetto 1 di 2 Tessalonicesi, poi leggere informaticamente, io lo trovo freddo, non riesco neanche... a me mi piace molto toccare la pagina, mettere le dita, le mani sulla pagina della scrittura, tenere la Bibbia in mano, a me è una cosa che mi piace, mi dà soddisfazione. Sì che la leggo anch'io al cellulare quando ho bisogno, al computer, ma certamente, però non può mai sostituire la lettura su carta. Or, fratelli, dice circa l'avvenuta, quindi sta parlando di che cosa? Quando parla di questi segni, Gesù, di che cosa parla? Perché noi dobbiamo sempre tenere conto, purtroppo, che ci sono anche quelli del rapimento segreto. Quindi dobbiamo districarci in mezzo tra la realtà e le false dottrine. Ci muoviamo in questo contesto, va bene? Ora, cosa dice? Dice circa... quindi Paolo sta mettendo chiarezza, sta portando dei chiarimenti a riguardo della venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, va bene? Due cose, ritorno del Signore e il nostro adunamento con Lui. Qui Paolo presenta queste due cose, non separatamente, ma le presenta che avvengono in un solo giorno. Va bene? Infatti, più avanti c'è scritto, al versetto 3. Poiché quel giorno non verrà, che cosa avverrà? Cioè, a quale giorno si riferisce? Al giorno in cui avverrà la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Avverranno lo stesso giorno. Quindi non sono due giorni diversi, come dicono quelli che credono nel rapimento segreto. Vedete come Paolo mette ordine? Mette ordine quando parla Paolo. Quando parlano i falsi, i falsi predicatori, i falsi pastori, mettono disordine, non ordine. Capite? Invece Paolo mette ordine. Dice, quel giorno non verrà il giorno del nostro adunamento con Lui, il giorno della venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro adunamento con Lui è il rapimento della Chiesa. Praticamente il rapimento segreto. Allora, il rapimento segreto è sbagliato solo nella parola segreto, perché il rapimento della Chiesa ci sarà. Quella la crediamo, no? Crediamo tutti. Al ritorno del Signore i morti in Cristo risusciteranno. e con il corpo, con le anime, si congiungeranno al corpo e il corpo andrà a incontrare Gesù nell'aria. Questo avverrà il nuovo corpo glorioso. E questo è l'adunamento della Chiesa con Cristo nell'aria. E quando avverrà questo adunamento? Ma quando viene il Signore nostro Gesù Cristo? Non è che può venire in un altro momento. Alla venuta. Alla sua venuta. Qui Paolo dice che avverrà in un unico giorno la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Il nostro, vedi, dice anche Lui, sarà adunato. Capite? Si include anche l'Apostolo Paolo. Questa è la premessa, no? Per dire, Paolo sta portando chiarezza su questi elementi. Poi dice, inquadra dopo inquadra la situazione. Cioè, cosa stava succedendo a Tessalonica, ai credenti di Tessalonica? Dice, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Praticamente, cosa è successo? In qualche maniera, in qualche maniera, di cui Paolo qui fa una distinzione di modi con cui sono stati portati, è stata portata una falsità in mezzo a quella Chiesa. Cioè, alcuni di quella Chiesa, io non credo tutti, ma alcuni di quella Chiesa credevano che il ritorno del Signore fosse imminente. Cioè, alle porte stava per venire oggi, domani, stanotte, capite? Allora sì, quelli credevano in quella maniera. Notate che è la stessa falsità che alcuni di oggi predicano col rapimento segreto? Cosa vuol dire questo? Che l'Apostolo Paolo è vero che ha scritto per portare chiarezza e ordine alla Chiesa di Tessalonica, ma dall'alto il Signore, mediante il suo Spirito Santo, che ha ispirato Paolo a scrivere queste cose, ha voluto portare ordine in tutte le Chiese delle varie epoche dove ci sarebbe stata questa falsità. La stessa falsità, non un'altra. La stessa falsità. E oggi c'è questa falsità. C'è questa falsità che viene predicata. Cioè, viene predicata la falsità che il ritorno del Signore è imminente. Ma no, Paolo dice che ci devono essere dei segni ben precisi prima che sia imminente il ritorno del Signore. Quindi non possiamo noi assolutamente pensare che sia così. Perché non ci sono gli elementi. Non sono ancora avvenuti, infatti, in maniera precisa, come li ha descritti l'Apostolo Paolo. Però vedete come anche all'epoca dei tessalonicesi c'erano di quelli che cercavano di travolgere le menti. Allora, innanzitutto qui Paolo dice non lasciatevi travolgere la mente perché le false dottrine, la falsa speranza, le false aspettazioni travolgono la mente. Tu non hai più la mente lucida, non hai più la mente con la giusta conoscenza per vedere il sentiero che stai percorrendo. Capite? La mente viene travolta. Viene travolta e quindi non ragiona più come deve ragionare. E così sono quelli del rapimento segreto. Sono così. Hanno la mente travolta. Va bene? Poi dice di non farsi turbare. Cioè il turbamento è un sentimento interiore negativo tra cui ci può essere la paura, l'incertezza di quello che sta per succedere, l'insicurezza, sentirsi insicuri, tutto questo turba. E chi è nell'ignoranza è turbato perché non sa quello che sta per succedere. Ecco perché la conoscenza ti dà un vantaggio. Ti fa essere più forte, più tranquillo, più sereno. non dico che uno sta arrivando alla persecuzione e non è che sarà contento. Però almeno sai quello che sta succedendo. Cioè hai il controllo delle situazioni, capite? Sai quello che sta avvenendo. E dice di non lasciarsi turbare. Quindi come possono turbare le persone? Attraverso ispirazioni. Vi faccio un esempio. io ho letto le scritture e Dio mi ha dato l'ispirazione che queste dicano che c'è il rapimento segreto. Oppure il Dio mi ha rivelato attraverso un sogno, una visione che Gesù tornerà anche oggi. Guardate bene che queste cose le leggiamo spesso. Leggo spesso, io ogni tanto vedo qualche testimonianza di qualcuno che dice che il Signore Gesù è apparso a qualcuno bambini magari anche che dicono di prepararsi che il Signore sta arrivando. Ma sono sempre solamente ispirazioni di quelle che diceva l'Apostolo Paolo. È vero che il Signore tornerà ma non è alle porte. Quindi quando dicono che sta per tornare e a breve tornerà cioè nel senso che qualche giorno o qualche tempo non è vero non è possibile non è biblico. Ci sono dei segni in segni che ha detto l'Apostolo Paolo che ancora si devono avverare quindi non è biblico. E allora quindi vedete sia da ispirazioni sia da discorsi e questi che inculcano le falsità alla Chiesa lo possono fare anche attraverso dei discorsi predicazioni profezie false profezie naturalmente o attraverso i discorsi privati a casa ah fratello cosa ne pensi stiamo per andare col Signore può tornare anche questa notte te lo dice oggi te lo dice domani e ti inculca questo nell'ignorante questo fa presa viene penetra nel cuore dell'ignorante queste parole soprattutto se te le dice una persona che magari tu stimi cioè il pastore gli anziani tu hai una stima di quel fratello ti dice una falsità e te la bevi te la bevi e produce quel turbamento che 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 invece non deve essere prodotto perché Paolo ha dovuto scrivere per togliere ogni turbamento dal cuore dei fratelli perché comunque quella quella falsità quella cosa di che il Signore stava per tornare da un momento all'altro li lasciava un po' perplessi li lasciava un po' turbati infatti cosa era successo sempre a Tessalonica c'erano di quelli che siccome hanno creduto così tanto che il Signore doveva tornare che avevano smesso di lavorare va bene hai smesso di lavorare sei così convinto che il Signore sta per tornare però ti mangi il tuo pane gli ha detto Paolo chi non lavora non mangia così se tu se il Signore oggi torna domani torna dopo domani torna tu ma sei tranquillo non hai lavorato non hai mangiato e ti sei preparato al ritorno del Signore ma se passa una settimana passano dieci giorni passano venti giorni e no e no tu non puoi mangiare il pane degli altri in attesa che ritorna il Signore questo per non dare questo per non dare spazio ai pigri per non dare spazio a quelle persone che non hanno voglia di fare niente capite una cosa è se uno lo farebbe sinceramente però anche quello è sbagliato qui per non lasciare spazio ai pigri no io sto aspettando il Signore a casa io non lavoro e poi magari ti chiama dopo ma fratello io non ho niente da mangiare ecco stai aspettando il ritorno del Signore da un mese non sei andato a lavorare ti sei licenziato e poi certo che vuoi adesso che vuoi infatti Paolo a questi disordinati ha detto che avrebbero dovuto sarebbero stati dovuti cacciare cacciare bisognava cacciarli dalla comunità e avrebbero mangiato del loro pane e così si imparano a non dare retta alla parola capite cioè vedete come se uno daretta alle falsità può rimanere può rimanere ingannato e subire delle cose gravi le può subire non è una scherzo essere nella falsità credere in certe false dottrine ma è per questo che insistiamo sempre di studiare la parola di attenersi solo a quello che è scritto perché le falsità portano dei danni nella mente nel cuore e nel comportamento dei credenti purtroppo portano dei danni non è solo una conoscenza sbagliata che tanto non fa danno no i danni sono molti alcune dottrine false ti menano anche in perdizione e ti menano anche in perdizione vedete come comunque sono dannose in un modo o in un altro più o meno dannose le falsità però ti danneggiano e quindi ti devi attenere a quello che dice la parola e c'erano abbiamo detto quelli che facevano dei discorsi per ingannare le persone sia da qualche epistola data come nostra vedete cioè immaginatevi voi c'erano dei truffatori all'epoca di Paolo che scrivevano delle lettere per ingannare le chiese la facevano passare come scritta dall'Apostolo Paolo capite cioè non è che i truffatori ce li abbiamo solo oggi i truffatori quelli che amavano il denaro quelli che volevano ingannare la chiesa c'erano anche a quei tempi e guardate che inganno che facevano facevano passare determinate epistole come se le avesse scritto l'Apostolo Paolo e quelli sono ingannatori ecco perché bisogna stare attenti capite oggi che cosa abbiamo cosa abbiamo di simile oggi abbiamo il Vangelo di Giuda abbiamo i Vangeli di qua il Vangelo di là abbiamo il Vangelo di Barnaba abbiamo gli scritti tanti scritti che vorrebbero inserirli nelle sacre scritture come dire non li ha scritte Paolo però li ha scritte un altro profeta li ha scritte altri credenti altri uomini di Dio cercando di introdurre nella Chiesa delle falsità capite e qui di noi invece grazie al lavoro fatto da Giovanni al lavoro fatto dall'Apostolo Giovanni perché fu lui che raccolse tutti gli scritti del Nuovo Testamento grazie al lavoro diciamo attento della prima Chiesa che controllava gli scritti se erano veramente ispirati da Dio oppure no grazie anche allo Spirito Santo che ci guida ci fa capire che tutti i libri comunque che leggiamo noi soprattutto del Nuovo Testamento sono comunque tutti collegati assieme e non si contraddicono capite sono tutti che si spiegano l'un l'altro quindi è arrivato a noi un Nuovo Testamento perfetto preciso non c'è bisogno di altro io quei pochi che ho letto che erano dei libri che volevano farli entrare nel canone biblico li ho letti qualcuno non tutti ma qualcuno l'ho letto e vi dico che non erano ispirati si sentiva mentre lo leggevi si contraddivano non erano accuratamente precisi storicamente non erano non era parola di Dio ma lo capisci lo si vedeva ed è per questo che la Chiesa che era comunque guidata dallo Spirito Santo la Chiesa antica la prima Chiesa ha rifiutato quegli scritti non ha preso altro se non quelli che noi oggi abbiamo nella nostra Bibbia di 66 libri non è la Bibbia cattolica è la nostra Bibbia evangelica con il canone biblico che non ci sono discussioni per quanto riguarda i libri del Vecchio Testamento che viene accettato anche dalla Bibbia ebraica magari ci sono un po' più di problemi per quanto riguarda il Nuovo Testamento ma noi abbiamo fede in Dio che se il Signore ha voluto che si scrivessero queste epistole questi scritti li avrebbe poi avrebbe anche fatto in modo che sarebbero arrivati a noi in maniera fedele non perfetta come la lingua originale perché qualche defezione c'è sempre ma serve anche quella perché comunque devi stare attento a tutto sempre ma comunque è arrivato a noi qualcosa di cui noi ci possiamo fidare che non ti porta comunque in perdizione o comunque se c'è un errorino riesci attraverso la somma della parola a capire che quella cosa lì è sbagliata e ci arrivi ci arrivi anche senza conoscere il greco anche senza conoscere il greco comunque per tornare a quello che diceva Paolo vedete come Paolo mette in guardia contro i truffatori che dicevano che c'erano che c'erano di quelli che facevano girare delle epistole come se le avesse scritte Paolo il senso di queste falsità che cosa avevano portato perché questo è per questo motivo che Paolo sta scrivendo cioè tutte queste queste falsità avevano portato alcuni della chiesa di Tessalonica a credere che il giorno del Signore era imminente cioè alle porte stava per venire oggi domani stanotte e invece non era così non era così perché e quindi per spiegare l'Apostolo Paolo per spiegare perché non era imminente ha detto che cosa bisogna guardare vedete ecco perché io voglio farvi riflettere su queste parole perché proprio quello che Paolo fece con i tessalonicesi dobbiamo oggi considerarlo e farlo nostro capite e soprattutto presentarlo a quelli che non sono sicuri che sono ingannati come lo erano i tessalonicesi alcuni dei tessalonicesi perché non credo che tutti fossero ingannati e dice quali sono ah poi dice nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera e sì perché quelli che vogliono trarre quelli che vogliono trarre in errore la Chiesa in diversi modi in diverse maniere e sono tanti purtroppo sono tanti adesso il nostro problema il nostro pericolo il nostro timore non il nostro pericolo il nostro timore maggiore qual è? è che noi diciamo siete liberi no? io dico ai fratelli voi siete liberi voi andate in giro leggete guardate i video che volete studiatevi tutto quello che volete però il mio timore qual è? il mio timore è che leggendo alcune cose che ti ingannano possono riuscire a imbrogliarti perché magari uno non ha una conoscenza sufficiente di tutta la somma della parola per potersi difendere su tutti gli argomenti perché su quelli che citiamo più spesso magari riuscite a difendervi perché vi ricordate avete letto la parola la Bibbia vi ricordate ma ci sono altri argomenti ci sono altri argomenti che purtroppo magari o se ne è parlato magari poco o non se ne è parlato mai e quelli vi possono ingannare quindi dal mio punto di vista uno i credenti sono liberi e fanno quello che vogliono liberi nel Signore cioè non è che sei libero di peccare quando e come vuoi questo no questo lo imponiamo e non vogliamo assolutamente che si faccia il male però se uno è libero di andare a leggere a fare quello che vuole però ci sono delle cose soprattutto dottrinali che ti possono ingannare quindi lì c'è un pericolo va bene c'è un pericolo e questo era il timore che aveva anche l'Apostolo Paolo infatti gli dice il desiderio della speranza dell'Apostolo Paolo nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera questa è la nostra speranza il nostro dolore il nostro il nostro timore e che alcuni fratelli ma purtroppo ne abbiamo persi anche in mezzo a noi non è che stiamo dicendo che il timore che abbiamo è una cosa lontana no perché alcuni che erano in mezzo a noi che spiccavano anche in mezzo a noi sono stati ingannati e sono andati via ma non è tanto importante che uno rimanga con noi e l'importante è che non abbandoni e l'importante è che non abbandoni la verità della parola capite quello è importante uno dice vabbè ma non frequento la conferenza ma non è quello l'importante è che tu rimanga in comunione con Dio e attaccata alla verità della parola e questo è importante e Paolo aveva questo timore e questo timore è anche nostro anche se purtroppo non è che possiamo legare e controllare ogni fratello dobbiamo soffrire in silenzio aspettare pregare per i fratelli che il Signore li preservi da ogni male li protegga li dia sapienza e intelligenza per intendere la verità e mangiando qua e là in giro per il web qualcuno può rimanere avvelenato sai quanti ne abbiamo persi in questi anni e purtroppo è così può succedere può succedere noi abbiamo questo timore e il pericolo c'è e qualche volta capita però attenzione voi fate in modo che non capiti va bene ma non tento che non capiti perché dovete rimanere miei fratelli in comunione con me ma che non capiti che vi allontanate dalla verità capite questo è importante poi potete anche non 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 frequentarmi più per dire a me non è quello che vi salva vi salva la verità vi salva quello che c'è nella parola è quello che vi libera e vi fortifica e vi sostiene però purtroppo io lo so è sempre successo così chi si allontana da noi non si allontana perché noi abbiamo la faccia antipatica si allontana perché non sopporta più la dottrina capite il senso è quello non si allontanano perché noi abbiamo una faccia non simpatica si allontana perché perché non sopportano più la sana dottrina capite allora se non la sopportano più è chiaro che si sentono stretti in mezzo a noi e spariscono ed è la dottrina che rinnegano non è tanto noi e dobbiamo sempre pregare giustamente di rimanere attaccati alla fedel parola non alle chiacchiere ma alla fedel parola poi dice Paolo poiché quel giorno lui dice non fatevi ingannare ma perché non mi devo fare ingannare che cosa devo considerare io per non farmi ingannare in questo argomento di cui si sta parlando cioè dell'adunamento del momento in cui ci sarà l'avvenuta del Signore e il nostro adunamento con lui e lo dice Paolo poiché quel giorno non verrà se prima e quindi quel giorno verrà solo dopo che si saranno verificati questi due elementi questi due fatti che sono che sia venuta l'apostasia ma sarà un'apostasia che sarà visibile capite non sarà un'apostasia che qualcuno abbandona la verità no sarà un'apostasia di gruppo sarà una grande apostasia sarà una cosa molto visibile particolare e quello e cosa vuol dire apostatare vuol dire smettere di seguire il Signore e seguire un altro un altro Dio smettere di seguire Dio e di seguire invece un altro Dio questa definizione dove la leggiamo la definizione la leggiamo nella legge di apostasia vedete come fare uso della legge noi facciamo uso della legge attenzione dei libri della legge ma facciamo un uso lecito va bene l'uso un uso che bisogna farne lecitamente capitolo 13 di Deuteronomio quindi qui noi usiamo la legge sto usando la legge adesso non per imporre la legge ma perché la legge andando a leggere questo passo ci fa capire cosa vuol dire apostatare da Dio dal punto di vista biblico quindi non ce lo stiamo inventando capitolo 13 di Deuteronomio quando sorgerà in mezzo a te un profeta o un sognatore che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda ed egli ti dica andiamo dietro a dei stranieri che tu non hai mai conosciuto e ad essi serviamo tu non darai retta alle parole di quel profeta o di quel sognatore perché l'Eterno il vostro Dio vi mette alla prova per sapere se amate l'Eterno il vostro Dio con tutto il vostro cuore e con tutta l'anima vostra seguirete l'Eterno l'Iddio vostro temerete Lui osserverete i Suoi comandamenti ubbidirete la Sua voce a Lui servirete e vi terrete stretti e quel profeta o quel sognatore sarà messo a morte perché avrà predicato l'Apostasia dall'Eterno dal vostro Dio che vi attratti dal paese d'Egitto e vi arredenti dalla casa di schiavitù per spingerti fuori della via per la quale l'Eterno il tuo Dio ti ha ordinato di camminare così toglierai il male di mezzo a te vedete guardate che sono importanti questi versi infatti noi sappiamo che l'anticristo verrà e avrà gli sarà data la potenza di Satana e ci sarà anche il falso profeta da notare il profeta che qui farà segni e prodigi e si possono anche avverare dice qui avete letto se il segno e il prodigio e il sogno che ti mostri un segno o un prodigio e il segno o il prodigio di cui ti avrà parlato succeda quindi può capitare come anche accade ai magi di Egitto quando Mosè fece dei segni davanti a Faraone alcuni segni con le arti occulte li hanno potuti fare anche i magi d'Egitto così verrà anche l'anticristo supportato dal falso profeta e faranno dei segni dei prodigi bugiardi ma li faranno e questi segni perché li faranno per ingannare più gente possibile fargli seguire una via diversa da quella che i cristiani seguono seguono una via che serve diciamo per servire il Signore Gesù Cristo per servire Dio Padre ecco da questa via con l'apostasia si viene portati da un'altra parte cioè tu segui una via con l'apostasia non segui più quella via ma ne segui un'altra non stai adorando e servendo più l'iddio della Bibbia ma stai adorando e servendo un altro Dio praticamente e questo potrà venire questo inganno anche con segni e prodigi bugiardi capite che inganneranno le persone quindi così avverrà l'apostasia questa è l'apostasia cioè tralasciare il servizio e il culto all'iddio della Bibbia per seguire un altro che non è l'iddio della Bibbia è un'altra cosa ma allora noi a che cosa ci dobbiamo attenere ma se io non conosco le scritture vi faccio un esempio uno dei grandi inganni che sta attuando il maligno nelle chiese qual è se ha messo dei falsi predicatori questi falsi predicatori non stanno insegnando la verità della parola di Dio non stanno insegnando l'iddio della Bibbia e questo lo vediamo chiaramente perché perché non credono che Dio punisca non credono che Dio metta la prova non credono in tante cose che sono scritte quindi i credenti che seguono certe denominazioni certe comunità in che stato sono nell'ignoranza quindi non conoscono la via che devono seguire di conseguenza quando verrà il falso profeta l'anticristo sarà più facile per loro dire segui questa via perché Dio è qui seguendo questa via tu e quindi quelli non si renderanno neanche conto della via che avranno abbandonato perché non l'avranno conosciuta pieno capite nell'ignoranza tu non ti rendi conto della strada che stai percorrendo è la grande apostasia il signore molti li avrà salvati ma questi per l'ignoranza ecco che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza dice il profeta Osea e ha ragione perché ad esempio quando ci sarà la grande apostasia molti andranno in perdizione prenderanno il marchio della bestia vi faccio un esempio un po' più concreto no ammettiamo che uno va non studia mai le scritture il predicatore non ti dice mai non ti parla mai del segno della bestia che dovrai prendere che cercherà di mettere in tutte le persone nella mano destra e nella fronte se questi credenti non conoscono queste scritture e si presenta un uomo che ti vuole mettere un timbro nella mano destra e il pastore ti dice no devi obbedire alle autorità perché sarà magari sarà un'autorità questi mettono la mano destra e si prendono il marchio della bestia per ignoranza per ignoranza vedete che è dannosa l'ignoranza ed è la cosa che stiamo combattendo con più forza desideriamo che i fratelli crescano nella conoscenza capite perché l'ignoranza purtroppo fa perire non è che ti aiuta l'ignoranza ti uccide non ti salva e quindi Paolo ha scritto appunto per portare chiarezza ne aveva parlato a voce ma ha dovuto anche scriverle queste cose c'erano c'erano di quelli che volevano menare portare l'errore portare in errore la chiesa in diversi modi e Paolo ha dovuto scrivere e far notare queste cose far notare che il signore non sarebbe venuto se prima non ci fosse stata l'apostasia e se non ci fosse venuto l'empio l'uomo del peccato l'anticristo con lui che dirà che egli è Dio e proferirà parole altissime parole grandissime e lui sarà qui sarà là ricordatevi ci saranno segni prodigi che saranno fatti bugiardi e dirà io sono Dio e si siederà nel tempio e se è Dio vorrà essere adorato noi cosa sappiamo sappiamo che noi non dobbiamo adorare nessun altro se non Gesù Cristo è il Padre questi dobbiamo adorare gli altri noi non ci dobbiamo chinare ginocchiare adorare baciare la mano servirli no assolutamente no la mano i piedi di Gesù li baciamo ma la mano i piedi delle persone non si baciano i piedi si possono lavare con la lavanda dei piedi come ha lasciato Gesù detto questo è un altro argomento che affronteremo ma baciare i piedi baciare la mano quello non si fa quella è una forma di adorazione non si baciano le mani non si baciano i piedi si baciano le guance dei fratelli perché il bacio si deve dare ai fratelli il bacio d'amore il bacio santo si deve dare il bacio ai fratelli ma sulla guancia non sulla mano capite e neanche sui piedi che quelle sono forme di adorazione e verrà anche questo avversario verrà il nemico però cosa succederà magari queste di quello che farà il nemico quando il nemico meglio il nemico può essere inteso anche il diavolo qui stiamo parlando di due persone che sono l'anticristo che sono la bestia e il falso profeta quindi queste due persone che prenderanno in mano avranno il regno praticamente su tutta la terra prima di essere distrutti faranno perseguiteranno la chiesa prima di essere distrutti dall'avvenuta del Signore nostro Gesù Cristo praticamente oltre al fatto che ci saranno grandi segni e prodigi che accadranno dei segni nel cielo delle punizioni dei guai che scenderanno sulla terra che colpiranno i malvagi la chiesa a causa di questo uomo malvagio di questi uomini malvagi la chiesa sarà perseguitata e ne moriranno molti e ne moriranno quindi questo lo dobbiamo sapere perché è così è così avverrà così avverrà così è scritto e così avverrà da questo non possiamo scappare possiamo dire che non saremo colpiti dai giudizi di Dio che la chiesa non sarà colpita da Dio ma purtroppo il Dio permetterà che la chiesa sia perseguitata questo lo permetterà e molti moriranno e sarà una prova per loro una prova dura una prova se veramente amano più il Signore che loro stessi se magari perché si appostatano si adorano la bestia non saranno messi a morte però avranno appostatato dall'Eterno capite per salvare la loro vita e quindi ora se le persone fanno fatica le sorelle ad esempio fanno fatica a mettersi un vello in testa per obbedire a Dio figuriamoci se mettono il collo per farselo tagliare questo sia chiaro che chi non fa una cosa è impossibile che riesca a fare l'altro e quindi capite che la situazione è questa quindi concentriamoci per terminare per terminare perché le cose da dire sugli eventi futuri ce ne sono tanti altri non è che abbiamo smesso però volevo che voi vi concentriate su questo perché perché non dovete temere non dovete avere paura se non succede questo le cose che sono scritte qui a capitolo 2 di seconda testa non i cesi il signore non sta tornando non è tempo che il signore torni perché così stanno le cose così è scritto quando si sarà costruito il tempio di Gerusalemme quando vedremo la grande apostasia e si vedrà l'anticristo guardate bene che sono cose queste che quando si verificheranno noi non avremo dubbi cioè si verificheranno e saranno visibili a tutti praticamente capite quindi non vi preoccupate quando ci saranno queste cose che si avvereranno noi le capiremo bene non è che ci sfuggirà qualcosa quindi finché se abbiamo il dubbio sappiate che allora non stanno avvenendo quindi quindi state tranquilli continuate andare avanti col signore eliminate il più possibile l'ignoranza nella conoscenza della parola perché la conoscenza vi proteggerà da ogni male vi manterrà saldi nella via del signore e possibilmente perché so che ognuno di noi ha contatti con altri fratelli più o meno deboli anche di altre denominazioni io voglio che il bene sia fatto a tutti non mi interessano le denominazioni se un fratello ha paura bisogna tranquillizzarlo bisogna dirgli come stanno le cose ne hanno bisogno bisogna che sia fatto così poi ti può ascoltare non ti può ascoltare questi sono fattori che dipendono da Dio e non da noi cioè il signore da noi vuole che ne parliamo che tranquillizziamo le anime poi se accettano o non accettano questo non dipende da noi ma dipende da Dio quindi lasciate stare il risultato finale dipende da Dio noi facciamo il nostro dovere prima in noi stessi cercando di essere tranquilli e sereni e poi portando tranquillità e serenità anche agli altri infatti se non siamo tranquilli noi come facciamo a tranquillizzare gli altri quindi facciamo un lavoro prima su noi stessi e poi saremo in grado dopo di fare un lavoro anche sugli altri e questo era il messaggio che questa sera volevo darvi a Dio siano la gloria l'onore la lode nei secoli dei secoli amin